Rifare i documenti è un atto estremamente umiliante, ok? Tu sei lì davanti all'impiegata del comune che ti fa domande molto infide e personali come nome, cognome, sei ancora alto nei 56, vero? E io in quel momento avrei potuto dire all'impiegata del comune che anni fa, quando ho rifatto i documenti, per nessun motivo se non il brivido di mentire alle autorità, ho detto alla sua collega impiegata del comune che sono alta 1,56 e in realtà sono alta 1,53. È una buccia piccolissima, sono solo 3 centimetri e se me lo fai notare è pure scortese, è un piano perfetto e noi ovviamente ridiamo ma di fatto io sto mentendo su dei documenti ufficiali e quindi chi mi assicura che tra dieci anni non mi ritroverò in carcere con le mie compagne di cella che fanno tu, tu perché sei dentro, io, io per rapina a mano armata, wow forte, tu, tu perché sei dentro, io sono dentro per evasione fiscale, figata, e tu, tu Valeria, tu perché sei dentro, sono bassa. Io ho dei genitori molto giovani e avere genitori giovani vuol dire che non ti puoi ribellare, o meglio sono sempre stati molto severi per tutto quello che riguarda droghe e alcol, cioè io mi ricordo che non potevo stare sul triciclo senza prima soffiare sull'etilometro, molto severi, però mi ricordo che ad esempio quando erano le medie e le mie compagnette si facevano i bucchi all'orecchio di nascosto, ecco se io le medie fossi andata mia madre e le avessi detto mamma voglio farmi un piercing al naso, mi guarda che avrebbe preso il cavatappi dalla cucina e avrebbe fatto ah, voilà, c'è invece qualcuno qua che ha tatuaggi per alzata di mano? Un po' di persone, ciao, come ti chiami? Matteo, quanti tatuaggi hai? Un bel po', ok, quali sono le domande più stupide che ti fanno in quanto persona tatuata? Cosa significa? È la mia preferita, un'altra che mi piace un sacco è ma come farai quando sarai vecchio? Ecco voglio dirti una cosa, mio padre ha fottuto il sistema perché mio padre iniziato a riempirsi di tatuaggi quando aveva 40 anni, ora ne ha più di 50, la gente passa fa, cazzo però gli stanno molto bene, cosa significa? È la mia domanda preferita perché io ho una caffettiera qua, cosa significa? Sono napoletana è evidente, il prossimo tatuaggio che voglio farmi è l'elmo di Loki sulla schiena per rispondere alla domanda cosa significa, dire è l'elmo di Loki, sì ma per te cosa significa? È l'elmo di Loki, è il dio dell'inganno, sì ma per te che significato ha? È l'elmo di Loki, è il dio dell'inganno, significa che sono alta 1,53 l'impiegata del comune non lo scoprirà mai, mai!